L'apparenza inganna. Quante volte abbiamo sentito dire la frase la realtà non è sempre come ci appare. Facciamo un esempio. Guardate gli uomini che sono alle mie spalle. Il primo, quello sulla sinistra, lo conoscono in pochi. Quello sulla destra, lo conosciamo? Sì o no? Sì, lo conosciamo tutti. Il primo, sempre quello a sinistra, sembra molto serio, molto compassato. L'altro? Non tanto, direi non tanto. Eppure l'altro, che è Albert Einstein, colui che ha scoperto tante di quelle cose che dopo ne ritroveremo alcune, deve molto, moltissimo a quello che è alla sua sinistra. Perché il primo, Max Planck, è colui che ha scoperto i quanti di energia. Grazie alla scoperta dei quanti di energia, Albert Einstein ha scoperto i quanti della radiazione elettromagnetica. Quindi sono entrambi i panni della teoria della meccanica quantistica. Sono coloro i quali mi sono ispirato io per questa idea che vi proporrò oggi, che mette assieme la meccanica quantistica, le vibrazioni meccaniche e il cervello. E in quanto a apparenze, certe volte devo dire la verità che le apparenze ci condizionano fin troppo. Anche a me capita quando mi presento e mi chiedono che cosa fai, io rispondo faccio il fisico e tutti mi dicono ah, si vede che ce l'hai un bel fisico, beato te che fai educazione fisica tutti i giorni e ti mantieni in forma. E io dico no, non è proprio così. Quello di cui io mi occupo in questo momento lo vedremo tra poco. Altra piccola domanda sulla realtà e l'apparenza. Che cosa vedete qui? Potete rispondere, non è vietato. È un ponte, sì o no? E cosa c'è di più, diciamo nel nostro immaginario solido, di più resistente, di un ponte che fa passare milioni di macchine ogni anno. Questo ponte si chiama Tacoma Narrow Bridge ed è talmente solido che... ... 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 che dice che ogni elemento, ogni atomo, ogni cosa ha un'energia e avendo un'energia vibra. L'energia è uguale a una costante, la costante di Planck, per la frequenza intrinseca di vibrazione. Una formula talmente facile che dovremmo ricordarci come quella di Albert Einstein, quella che vedete alle mie spalle, quella che dice che a quest'ora di sera l'energia è uguale a latte per caffè al quadrato. Tornando alla legge di Planck, invece, quello che va al di là di questo, va al di là della semplice formulazione, è il fatto che noi, dentro quella legge, possiamo leggere molto di più. Possiamo vedere che ogni elemento ha un proprio grado di energia, ha una propria vibrazione, quindi possiamo interagire con esso. E se possiamo interagire con esso, possiamo dire che tutto è vibrazione. Noi siamo vibrazione. Questo, che è un po' lo slogan del mio talk di oggi, è fondamentale, perché la vibrazione si propaga in tantissime maniere. Per esempio, la vibrazione sonora si propaga in questo modo, comprimendo e rifacendo l'aria, cioè creando un suono. Penso che possa bastare. Questo suono che noi abbiamo sentito adesso non è altro che una vibrazione meccanica nello spettro dell'udibile, ma la stessa vibrazione si può avere anche nello spettro del non udibile, o addirittura si può avere nella radiazione elettromagnetica. Quando spiego ai miei studenti che la radiazione elettromagnetica e la radiazione meccanica non sono poi così differenti nella loro natura più profonda, questi rimangono perplessi. Eppure è così. Tanto è vero che se tutto è vibrazione, noi siamo vibrazione, al nostro corpo sono associate delle frequenze di vibrazione, che sono quelle che vedete alle mie spalle. Ecco, ho messo il rene lì per vedere se eravate attenti. In realtà, sapete benissimo che si trova da un'altra parte. Lì ci va il cervello in linea di principio e sulle frequenze del cervello bisogna fare una discussione un pochettino più ampia. Il fatto che tutto è vibrazione, noi siamo vibrazione unita al discorso della meccanica quantistica, fa sì che già in campo elettromagnetico, quella che viene chiamata QED, cioè quanto elettrodinamica quantistica, ci siano delle sperimentazioni che servono per far sì che le interazioni tra la vibrazione elettromagnetica e il corpo umano producano il benessere. Cioè aiutino le persone a stare meglio. Quello che vedete è il prototipo, la prima macchina si chiama QPS1 ed è una macchina attualmente utilizzata negli studi medici al riconoscimento dell'ASL e serve per mandare in vibrazione, come il ponte ma in maniera costruttiva, le nostre cellule e quindi per creare all'interno della membrana della cellula il passaggio degli ioni dispersi. Questa macchina funziona talmente bene che sono stati fatti dei prodotti industriali, prodotti industriali che vengono distribuiti normalmente come tante altre macchine. Naturalmente la macchina è quella attorno. Nella mia idea allora sostituire la radiazione elettromagnetica con la radiazione meccanica, quindi con la vibrazione meccanica, diventa semplicissimo. È semplice come idea ma non è semplice come logica, perché nel momento in cui io la attivo, devo riuscire ad attivare all'interno del nostro cervello, all'interno del mio bersaglio, tutta una serie di situazioni. Devo andare a colpire esattamente ciò che è all'interno del mio cervello, singole parti o neuroni. Eppure si può fare. Ma se utilizzo questo tipo di vibrazione, se questa vibrazione meccanica la metto all'interno del mio cervello e riesco a farlo, esiste la possibilità che questa radiazione sia effettiva? Certo, questa radiazione c'è, si chiama fonone. Ed è stato scoperto, tra le altre tante cose, anche da Einstein, che come sempre, come abbiamo visto prima, se non ci metteva la lingua non era contento. Noi cosa potremmo fare utilizzando la vibrazione meccanica? Tanto. Potremmo indurre il cervello a ripararsi, potremmo indurre uno stato di benessere temporaneo, naturalmente, non sono cure naturali, ma ciò che ora è una patologia incurabile potrebbe nel tempo e con lo studio essere affrontata da un altro punto di vista. Un altro punto di vista non invasivo e che, tra le altre cose, non ha neanche controindicazioni, perché la vibrazione meccanica non ha controindicazioni quando agisce sul corpo umano. Potremmo, per esempio, andare a far produrre alle nostre cellule neuronali la mielina per curare nel tempo, attivare meccanismi che possono ridurre il Parkinson. Analogamente per l'Alzheimer. Potremmo utilizzarla per fare stimolazioni neuronali o addirittura regolazioni ormonali. In una parola sola, possiamo utilizzarlo per il nostro benessere. Certo, è un approccio innovativo. È un approccio che va oltre a ciò che noi vediamo solitamente. Un approccio che scardina alcune delle nostre convinzioni semplici, come quella del ponte di prima. Ma un approccio che potrebbe, nel giro di, anche poco tempo, portare a dei risultati concreti. Quali sono le logiche che dobbiamo tenere sotto controllo? Da un lato, quelle che riguardano lo studio dell'emissione di queste vibrazioni meccaniche, perché devono essere fatte, prodotte in maniera puntuale. e dall'altro, lo studio, quindi investire sulla ricerca delle frequenze proprie di vibrazione di quegli elementi del nostro cervello, di quegli elementi del nostro corpo, che vogliamo andare a stimolare. Fatto ciò, però, dato che tutto è vibrazione e noi siamo vibrazione, utilizzando le vibrazioni, realmente potremmo immaginarci un futuro dove, finalmente, essere in sintonia con noi stessi, con il nostro corpo, e fisicamente approcciare un benessere che è quello che noi stessi possiamo procurarci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.